I numerosi conflitti armati che stanno in corso preoccupano seriamente. Ho detto che era una terza guerra mondiale a pezzi. Oggi forse possiamo dire totale. I rischi per le persone e per il pianeta sono sempre maggiori. San Giovanni Paolo II ringraziò Dio perché, per l'intercessione di Maria, il mondo era stato preservato dalla guerra atomica. Purtroppo dobbiamo continuare a pregare per questo pericolo che già da tempo avrebbe dovuto essere scongiurato.